Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Fiore, che mi chiede di parlare del film del 2024 di Bryce McGuire, Night Swing. Night Swing, film che dovrebbe essere un horror e che invece probabilmente non spaventerà nessuno. Comunque la storia è quella di un ex giocatore di baseball che si è praticamente rotto tutto e che dovrebbe smettere di giocare al suo sport preferito a meno che non riesca a riabilitarsi. Che cosa fa? Insomma con la sua famigliola, la moglie Eve, interpretata da Carrie Condon, e i figlioli Izzy, Amelie O'Ferl ed Elliot, interpretato da Gavin Warren, appunto vanno a trasferirsi nella casa insieme appunto al padre Ray, interpretato da Wyatt Russell. Dopo un incipit che noi vediamo all'inizio succedere qualcosa dentro una piscina, troviamo loro che insomma acquistano la stessa casa che noi vediamo all'inizio e il nostro inizia a fare piscina appunto in questa piscina proprio perché è una fatta con delle terme naturali e che quindi è perfetta per la sua riabilitazione. Solo che piano piano col tempo lui incomincia veramente a stare anche troppo ma gli acquista ancora più forza e quindi sotto c'è tutta una cosa delle acque demoniache di sto cazzo, dei sacrifici, della goccia che non c'è cascata per caso di sangue che porterà appunto alle visioni all'interno di questa piscina e di mostri che poi vorranno insomma avere sempre più sacrifici perché quest'acqua insomma ha i suoi poteri. Insomma ha un film completamente sbagliato, c'è poco da dire, se si può dire che la piscina ha una fascinazione naturale verso l'horror di Verbalcio della Pantera e molti altri però va anche detto che insomma è un soggetto del genere abbastanza ridicolo. Ruba quasi completamente l'idea della piscina e anche le cose migliori che si vedono nel film dal bellissimo libro di Bentley Little, The Resort dove c'è appunto questa piscina ma qui assolutamente tutto è banalizzato da una scrittura che sembra veramente quella di un filmetto mediocre degli anni 80 di serie B. nella partenza già ti sputtana tutto quello che succederà e i discorsioni per incontrare le persone e farsi dare gli spiegoni è veramente brutto, brutto come poche altre. Certo la messa in scena può essere guardabile, la fotografia, il montaggio così cagare non fanno però è un film che non lascia mai intenzione, non c'è una scena che faccia paura ed ha un finale risibile per qualcosa che vorrebbe sembrare un folk horror ma che più alla fin fine sembra più quasi una parodia degli stessi. Anche perché non si riesce nemmeno ad avere la forza di poter veramente spaventare con lo splatter giusto, non si riesce ad avere un minimo di ironia, si pigliano talmente sul serio che una cosa del genere non funziona, oltretutto lo splatter è veramente ridotto al nulla ed è un film quindi che cerca di vivere sulla tensione, cerca di vivere sul terrore creato, sull'orrore ma non arriva mai, non arriva ovviamente mai. Gli attori sono praticamente tutti più o meno inevetiti, girano per il set senza sapere bene che cosa fare e questa piscina più inquietare fa bene voglia di buttarci, si fa una bella notata, fine. Quindi un film praticamente che riesce a non spaventare quando vuole spaventare, è anonimo purtroppo più che anche bruttissimo, è un ruolo insopportabilmente anonimo. Ripeto senza un minimo di ironia, senza un minimo di voglia di trasformare il tutto in qualcosa di potabile perché così veramente sembra di essere di fronte a uno che vuole fare shining e invece alla fine ha tirato fuori Natale in India. Anche qui 150.600 citazioni che vanno da Poltergeist, lui dice anche The Abyss e altri 6.000 film come Il Mostro della Laguna, Lo Squalo per la Tensione, però tutto questo è semplicemente buttato a caso perché il film non spaventa, non ha niente di tutti questi bellissimi film e non riesce minimamente a raggiungere il suo scopo, quello appunto di darci il terrore. Nel complesso per me è un film da evitare, poi dategli un'occhiata se volete, ma è veramente calma piatta, sta piscina non fa mai una mezza onda. Il link se c'è lo metto qua sotto, andate sul Patreon, vi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia e questo Night Swing ho speso anche troppe parole per una storia di tre stronzi che si buttano in piscina, uno ripiglia bene e poi scoprono in sotto c'è una specie di settanza, demoni e insomma le solite cazzate che copiano anche da pezzi metali, da tantissime 6.700 cose senza mai però avere la forza né di riderci sopra né di renderci veramente preve e partecipi di un orrore che in questo film non esiste, fate un poino voi.